Bene, possiamo riprendere i lavori. Mi affretto allora, visto che non c'è moltissimo tempo a presentare i due relatori, sono particolarmente lieto di presiedere questa sessione. Si tratta del professor Giulio Goggi, della professoressa Ines Testoni, che rappresentano poi, è stato anche già ricordato dal professor Severino, il cuore di questo convegno, di questa iniziativa. Il cuore che si diceva prima è il cuore a tremesse, potremmo dire, adottando una formula parmenidea di questo convegno. Quindi sono davvero contento di poter dare a loro la parola per avviare quest'ultima sessione della giornata. E quindi do la parola alla professoressa Ines Testoni. Bene, non conoscevo le due frasi prima di oggi. Il nulla apre alla domanda metafisica, 1958, quindi sapeva sicuramente di ritornare a Parmenide. La via verso l'oltrepassamento della metafisica significa un rimanervi. Abbiamo aperto con il professor Azzoni il problema del metodo e in particolare il riferimento al metodo fenomenologico e il fatto che in quegli anni, nella prima metà del Novecento, la filosofia si pone la questione di che cosa sia il fenomeno e di che cosa significhi percepirlo e che cosa vediamo. Ciò che voglio raccontarvi in questi 15 minuti è esattamente che l'Italia è responsabile del fatto che Heidegger non abbia potuto superare la metafisica, ci sia andato molto vicino perché non ha potuto leggere il post-scritto. Che cosa vuol dire questo? Uno dei problemi più grandi della società italiana è quella di non valorizzare i propri geni. Parliamo tanto di fuga di cervelli, ma anche quando abbiamo dei geni a casa nostra, per esempio Giulio Goggi, non riusciamo a strutturarli nelle università. Chiedo scusa Giulio, so che è un inedito, non saresti d'accordo. Cornelio Fabro, Gennaro Sasso sapevano che Heidegger aveva a che fare col testo di Severino, ma le università italiane in quegli anni non hanno creato quello che stiamo creando qua. È chiaro che da questo momento in poi, da quando è venuto in luce l'esito della ricerca di Alfieri, dobbiamo rileggere Heidegger, proprio a partire, per quello che mi sembra interessante, da queste due affermazioni relative al nulla e al perché possa essersi incagliato in una svolta, la sua svolta, che è una rinuncia alla riflessione rigorosa e logica, perché la filosofia è anche questo, al rigore della non contraddizione o la risoluzione di ciò che è contraddittorio, proprio risolta per Heidegger attraverso la svolta poetica. Bene, Brescia altrettanto comincia adesso a voler fare tutto questo e altri gruppi, per esempio il gruppo di ricerca epistemologica Emanuele Severino, sta svolgendo la stessa operazione per quanto riguarda la possibilità di una rifondazione ontologica della ricerca scientifica. Questo congresso dunque cambia qualcosa, vale a dire apre un orizzonte di ricerca, perlomeno se lo vogliamo, di ipotesi che possiamo fare rispetto a quello che avrebbe potuto essere il dialogo tra Emanuele Severino e Heidegger se, come diceva Gramsci, gli intellettuali di quel tempo fossero stati responsabili di quanto stava accadendo, anziché processare. Credo che fosse venuto sicuramente il tempo di dire sta succedendo qualcosa che cambia la storia, noi invece abbiamo preferito tacere, lasciare all'interno dei seminari universitari, grandi discussioni, un dialogo che non è stato poi celebrato nella realtà. Bene, oggi possiamo ricostruire, perlomeno come discorso ipotetico, questo dialogo tra loro. Intanto il 900 ha visto Heidegger come un filosofo di grandissimo successo. Io sono oltre che filosofa scienziata e produco pubblico a livello internazionale su riviste impattate in ambito tanto psicologico quanto filosofico. Ebbene, so utilizzare ampiamente perché è la base dei miei strumenti, le banche dati, sono migliaia le citazioni in ambito scientifico di Martin Heidegger. Ciò che io vedo rispetto a questo successo è che Martin Heidegger si pone nel 900 come l'alternativa Carnap. L'abbiamo citato poco fa, vale a dire a quella questione fenomenologica di fondo del che cosa significa che percepiamo il mondo e che valore dobbiamo dare alle nostre percezioni. Il problema è quello del metodo. È quello di Brentano o è quello di Carnap? È quello di controllo delle variabili o è quello della mia, del mio intenzionare il mondo, territorio estremamente discusso e attraversato dalla psicologia e anche dalla psicologia e psichiatria fenomenologica. Non mi sono fatta corrompere, devo dire la verità, né dalla tentazione poetica di Heidegger né dal rigore della metodologia neopositivista che peraltro è veramente capace di euristiche interessanti. E ho cercato di capire che cosa sostanzialmente il testo così difficile che io trovo sfuggente di Heidegger. Una riga tre domande, alle tre domande nessuna risposta, poi un nuovo libro, una nuova ipotesi, un ritornare, poi usare come palinsesti. La parola palinsesto è relativa a come si scriveva nell'antica Grecia, nell'antica Roma utilizzando le pergamene per non sprecare la carta. Quei testi venivano riscritti e venivano riscritti cercando di imitare quando non si poteva cancellare, lavare il testo sotto. Ecco, pensiamo che Heidegger è un grande scrittore di pergamene di tutti coloro che ha voluto studiare. Cercava di indagare, indiziare quel problema sostanziale che lo legava l'impossibilità di realizzare ciò che desiderava, oltrepassare la metafisica. E non ci riusciva, come peraltro ha tentato di fare Carnap creando una nuova dogmatica. Dobbiamo dire che questa contrapposizione Heidegger-Carnap è stata accolta entusiasticamente da tutti i decostruttori, coloro che poi hanno seguito con Nietzsche il martellamento delle verità dogmatiche assolute. Dall'altra parte Heidegger è proprio colui che, chiedendosi che cosa significhi pensare, stabilisce che la scienza non pensa. Bene, quegli anni sono stati gli anni dell'eroismo. Per un verso abbiamo il pensiero costantemente rivolto in forma più o meno latente nonostante la poesia. E poi in Italia abbiamo avuto Leopardi, come ci insegna Emanuele Severino, ma Leopardi è limpido, chiaro nel dire l'unica consolazione è la poesia. No, invece Heidegger apre qualcosa di diverso ed è quello che lo ha reso così celebre, la speranza della salvezza, come l'ha definita poco fa Emanuele Severino, evocando quel dio sperato da Heidegger in una battuta, in una intervista, laddove sembra capitolare e a un certo punto stabilire che è soltanto un essere che si identifica e che è la totalità dell'essere e ci può salvare, intuisce qualcosa in quel momento. Ma perché eroismo? Perché eroismo? Perché Heidegger lungo tutto il suo insegnamento fa un'operazione sostanziale che è quello di educare con il proprio linguaggio l'astensione, educare all'astensione rispetto alla vita. Quel sì alla vita, voluto da Nietzsche un altro grande docente di eroismo, sì alla vita nonostante l'eterno ritorno, anzi proprio per l'eterno ritorno in ogni istante non perdere niente perché lì ritornerai e potrebbe essere una catastrofe pensare. Ebbene all'inverso, a quel sì alla vita, all'esercizio ascetico che tanto attira tutti i pensatori anti-tecnicisti, anti-scientisti, quella ascesi alla quale aspira Heidegger è un sì alla morte, è un sì alla morte. Rinuncia al tuo essere, alla tua condizione ontica, rinuncia al tuo essere banalmente quotidiano e rivolgiti unicamente all'essere sperando che questa possa essere una via della salvezza. Quindi la Bildung, sì poco fa l'abbiamo citata come una cosa negativa che certamente Heidegger critica, ma è proprio all'interno del testo la dottrina platonica della verità, cioè riprendendo proprio colui che cerca di compiere il parricidio nei confronti del grande maestro Parmenide, è proprio all'interno di questo testo che parla appunto di Paideia e Bildung, parlando e portando l'esempio del mito della caverna, dove vuole portare Heidegger con questo scritto, laddove sta analizzando il disvelamento come verità, cioè la Letzeia. Vuole portare innanzitutto alla critica dell'idea sicuramente di Paideia, ma in particolare vuole portare alla critica l'idea platonica, l'idea platonica di struttura di una verità e comincia a parlare della dottrina platonica intesa come lo sfondo, lo chiama proprio così, è lo sfondo che non viene espresso, attenzione, ma che attribuisce senso a quanto viene detto. La dottrina di un pensatore è ciò che nel suo dire rimane non detto e a cui l'uomo è esposto affinché vi si prodighi. Ecco qui comincia questo modo di sovrascrivere il testo platonico, così come ha già sovrascritto il concetto di verità con la Letzeia e attenzione perché comunque non sta rinnegando, quindi è assoluta la continuità con essere e tempo, laddove l'esserci è la dimensione di ciò che è destinato al non essere anche se solo come possibilità. Il problema è di metodo, dicevamo, in quegli anni il problema è stabilire che cosa vediamo, che cosa si vede, che cos'è il disvelamento, la verità, che cosa disvela, che cosa fa vedere e qua sto facendo Heidegger che pone tante domande. Bene, vediamo che cosa dice, sta criticando Platone, dice se ovunque in ogni comportarsi in rapporto all'ente ciò che importa è la visione dell'evidenza, la visione dell'evidenza, attenzione vuole criticare, allora ogni sforzo deve concentrarsi anzitutto nel rendere possibile un tale vedere. Per questo è necessario il guardare nel modo retto. Attenzione vuole dire che il metodo, sta entrando nel merito del problema del metodo, tradisce ciò che caratterizza la sua svolta l'evento, ovvero la libertà e il lasciare essere dell'apparire dell'essere. Heidegger critica Platone e critica chiaramente con la sua critica alla scienza e alla tecnica anche Carnap è il loro modo di intendere, sovrastrutturare con il metodo, con il metodo l'apparire dell'essere. Perché vuole criticare questi due pensatori? Non è capace di tornare a Parmenide. Allora vediamo la critica concepita in senso platonico, la svelatezza, cioè il disvelamento, quell'apparire della verità dell'essere, resta vincolata al riferimento del vedere, ecco il metodo, all'apprensione, al pensare, all'asserire. Seguire questo riferimento significa abbandonare l'essenza della svelatezza, nessun tentativo di fondare l'essenza della svelatezza nella ragione, nello spirito, nel pensiero, nel logos o in una qualche specie di soggettività potrà mai salvare l'essenza della svelatezza. Il problema di Heidegger è la salvezza. Dagli spunti di Emanuele Severino una discussione. La nostra call è partita da una proposta di testo di Emanuele Severino al quale mi sto riferendo, io ho preso solo una frase di Severino per questo discorso introduttivo al congresso. Rispettare l'evento come disvelamento dell'essere, da ultimo significa vedere il nascondimento dell'essere in cui consiste l'ente e forse fin qua potremmo anche accettare quest'idea. Come però, quello che non si può accettare, chiaramente io parlo da severiniana e vale a dire assumo una posizione di lettura critica di Heidegger, come l'apparire del non essere l'essere, la differenza dell'ente, è esattamente l'errore che commette Heidegger e che lo incaglia, rileggiamo un po' i due inediti degli appunti, il nulla apre alla domanda metafisica. La via verso l'oltrepassamento della metafisica significa un rimanervi, non ce la fa uscirne, siamo nel 58. L'essere e non essere da parte dell'ente significa essere nulla. La nullificazione dell'ente rende impossibile qualsiasi salvezza, da qui il senso dell'affermazione solo un Dio ci può salvare, deve assolutamente rinunciare alla sua differenza ontologica. Leggiamo Severino, Severino riprende questo inizio, riprende questo inizio, che ci siano delle verità eterne potrà essere concesso come dimostrato solo se sarà stata fornita la prova, la prova sta dicendo, come Carnap, che l'essere Dasein era, è e sarà per tutta l'eternità. Finché questa, diciamolo, prova non sarà stata fornita, continueremo a muoverci nel campo delle fantasticherie. E per Heidegger, dice Severino, questa prova manca, anche per tutti gli enti del mondo diversi dall'esserci. Bene, riassumiamo velocissimamente, perché ho esattamente 30 secondi, l'essere non ha bisogno di essere salvato e ogni essente è essere ed è già da sempre salvo, non c'è un tempo in cui l'essente non sia. La domanda sul senso dell'essere per salvare l'essere per Heidegger è prassi, ergo tecnica, tradisce se stesso. Il nulla è ciò è qua, ci siamo, non ha letto post-scritto. Ecco il problema, che cosa manca a Heidegger? Vi do la soluzione, nel post-scritto dice molto chiaramente a Carnap e a Heidegger, il nulla non appare e non appare neanche l'annientamento, è una fede. E da lì nasce tutta la discussione intorno al creazionismo, intorno già ampiamente aperta, chiaramente ritornando a Parmedia, strutturata con la struttura originaria, ma l'impossibilità che l'essere sia nulla o che possa essere annientabile è una realtà, è una prova, è una prova assoluta di laboratorio, perché da nulla a nulla e sicuramente niente dimostra di essere annientabile o annientato. Ciò che vediamo è un oltrepassamento degli eterni che scorrono all'interno dell'apparire dell'essere. Grazie. Bene, ringrazio la professoressa Testoni. Grazie.